L'Europa centrale, interessata ancora da un'area di bassa pressione in quota, il vortice di aria fredda ad essa associato, tende ad isolarsi tra Francia e Italia settentrionale, transitando poi anche sulle nostre regioni. In Toscana, lunedì 3 giugno, transito di rovesce locali temporali, dal pomeriggio parzialmente nuvoloso, con possibilità di locali rovesci sui settori appenninici, venti deboli da ovest-nord-ovest, mari poco mossi, temperature massime in lieve aumento. Sul territorio provinciale, da poco nuvoloso al localmente nuvoloso, qualche rovescio sui rilievi delle Apuane e degli Appennini, a Lucche sulla Piana, temperatura minima 13, massima 21 gradi, a Castelnuovo-Garfagnane, zone montane, minima 11, massima 19, a Viareggio sul litorale, minima 14, massima 21 gradi.